Ben tornati e sono davvero strafelice di avere ospite oggi qua a domenica in Herbal Meta che presenta uno, ecco qua, album DVD, la canzone si chiama Uno ed è tratta da questo album, da questo DVD e il titolo è Tribù Urbana, Herbal Meta! Dai Vittorini di Atene al centro di Dublino Hai visto come sembra un po' tutto più vicino E noi vogliamo sopra le autostrade e le prigioni Come le voci, le nostre voci Si accendono milioni di luci Visti da su, siamo tutti uguali Ti dico sì, anche se fossimo in pericolo In bilico, niente panico E un bambino calcia, un pallone oltre il muro Ci separano Ma il cielo è uno Il cielo è uno Uno Milioni di luci Ma il cielo è uno Milioni di luci Ma il cielo è uno Dagli occhi di una madre a quelli incerti di un soldato Dal primo bacio al buio Al grido di uno stadio Si accendono milioni di luci E dentro i bar le televisioni Le senti o no Le nostre mani che sollevano l'aria all'unisono Un bambino calcia, un pallone oltre il muro Non ci separano più Il cielo è uno Uno Milioni di luci Ma il cielo è uno Milioni di luci Ma il cielo è uno Siamo tutti qui Ma che spettacolo Quasi identici Non è un miracolo Tutti liberi Tutti o nessuno Il cielo è uno Il cielo è uno Il cielo è uno Siamo tutti qui Ma che spettacolo Il cielo è uno Tutti liberi Tutti o nessuno Il cielo è uno 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 Il cielo è uno 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 Il cielo è uno Il cielo è uno Adesso tutti gli artisti Fanno anche il vinile Perché per fortuna il vinile è tornato di moda E certo Ed è anche bello Insomma è un bello oggetto Un feticcio Bello bello grande Insomma ecco Bisogna comprarsi però il giradischi Eh beh molti ce l'ha Te ce l'hai il giradischi? Te lo regalo io No grazie Ma no Me lo regalo No veramente Grazie però Me lo porto a casa Però io stasera mi ascolto questo Questo lo posso ascoltare Poi dimmi cosa ne pensi Sta riprendendo tutto il lavoro Piano 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 Sì Perché tu ti hai parlato molto Ti sei insomma esposto molto In solidarietà Con tutti i lavoratori Assolutamente sì Dello spettacolo del vostro mondo Per cui speriamo Beh è un mondo che vive sicuramente anche in questo momento delle difficoltà Però insomma si spera per il meglio E pian piano le cose stanno tornando alla normalità Sei contento? Sei soddisfatto? Sono molto contento Ah madonna Sì Sempre bello vederti Grazie Grazie Piacere mio Ciao Grazie